Grazie a tutti Ecco l'altro guardo Michele Pozzo 251.5 Adresi a linea con il numero 53 Giacomo Bennati Su una Renault Clio Di classe 2000 del gruppo AN Pilota anche lui partecipante Al campionato italiano Slalom Grazie a tutti Il miglior tempo è quello di Monavirus 1.88 in meno di Bacchiato Mentre con il numero 53 Giacomo Bennati Giacomo Bennati Giacomo Bennati Prende proprio in questo momento il via Schittino più dentro i due 54 e 2 Mentre si allinea la vettura di Giacomo Benenati La Renault Clio di M2000 Pilota del campionato italiano Slalom Giacomo Bennati 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 damit Giacomo Bennati Giacomo Bennati Giacomo Bennati però ti è piaciuto? mi è piaciuto abbastanza, infatti ogni maschio ha passato 3 secondi vuol dire che stavo prendendo confidenza bene, vuoi salutare qualcuno, vuoi ringraziare qualcuno? sì, intanto voglio ringraziare la scuderia naturalmente nel nome di Leverino e i miei meccanici che mi danno sempre una mano d'aiuto per quanto riguarda la messa a punto della macchina infatti sono qui presenti e la famiglia e tutti quelli che ci conoscono bene, grazie per Leverino buon pomeriggio, ciao